Allo qui Resi, benvenuti ragazzi in un nuovo video, oggi non siamo su Rocket League, non siamo su Friday, non siamo su Minecraft, non siamo su YouPorn, purtroppo l'ho fatto ieri il YouPorn quindi non è possibile Ma siamo in un video un po' strano perché io vorrei capire, io siccome faccio video, faccio molte serie, vorrei capire quale continuare, quale vi piacciono, quale fanno cagare, quale non vorreste più sul canale Vorrei capire principalmente se volete che io continui la serie sul 3v3 solitiero standard, questo è un primo, quindi mettete ad esempio, si continua la serie sul 3v3 solitiero standard oppure lasciala 2, volete ancora i video dove faccio 2v2 e 3v3 senza, cioè con tagli solo, senza editati con la facecam quando io gioco con gli amici, quindi volete i funny moments e gli highlights quando io gioco con gli amici 2v2 e 3v3 Volete dei video su Friday perché io col gioco, quando gioco con gli amici lo registro, carico i video, non hanno il successo di Rocket, però a me piacciono, cioè è un bel gioco, è molto divertente Quindi ditemi se volete che continui Friday pura Inoltre vi vorrei parlare dei 500 iscritti Ora io sono, 500 iscritti sono perché io sono bellissimo e non perché so giocare, questo sono consapevole, sì lo so, la mia bellezza Non esiste Però il problema, no il problema, che cazzo sto dicendo, ma che mega parli, ma che problema è, non ce ne esiste problemi La cosa che voglio fare per i 500 iscritti, non fare uno speciale a cavolo, vorrei fare una cosa diversa, una cosa strana che non ho visto mai nei vari canali di Rocket in generale Vorrei fare un montage, quindi io faccio l'editor del montage, degli iscritti, cioè delle azioni più belle, freestyle, parate, passaggio, passaggio, tiri in aria Con levata di maglietta e ascelle pezzate, questo come può succedere? Basta che entrate nel mio Discord Mi scriviate un messaggio personale con scritto Io Gino Panfilo, ti invio tre clip dove faccio tic tac e toc Quando mi inviate le clip, mettetemi sempre il nome, il titolo, in che minutaggio fate l'azione e che cosa fate Così io non vado a avermi 5 minuti di video Potete pure inviarmi i fail, cioè perché vorrei mettere pure dei fail, cose divertenti all'interno del montage Quindi se avete ad esempio dei miss assurdi a porta libera, fate così cagare come io Che missate, cosa assurde Inviatele scrivendomi, raise if, ti ho mandato questa clip che è un fail al minutaggio Tot, faccio questo E dopo ad esempio 20 clip che mi inviate comincio a fare il montage E poi metterò il vostro nome in descrizione di chi mi ha inviato la clip e di chi c'è nel video E lo metterò pure a fine video tutti quelli che mi hanno inviato le clip con i propri nomi Che cosa hanno fatto eccetera eccetera Questo è il mio ringraziamento per i 500 iscritti perché comunque siete voi Non mi interessa fare speciali dove io faccio lo scemo con i challenges e cose del genere Non mi interessa Preferisco focalizzarmi su di voi Ah inoltre ragazzi, inoltre Inoltre ragazzi ora a fine del video fra 10 secondi Quando finirà il video metterò un'immagine su chi ha vinto il giveaway Perché io ho già fatto la cosa randomica Mi seccava farla in un video che durava due minuti Perché se io faccio un video di due minuti Quel giorno c'è solo quel video quindi non mi sembrava giusto La persona che ha vinto mi deve contattare su YouTube come messaggio privato Scrivendomi il proprio profilo di Steam Cioè tutto il link del proprio profilo di Steam Che io così lo aggiungo e gli invio e scambiamo Facciamo il trade del Turbo Blue Sky Quello che cacchio è Comunque ragazzi se il video vi è piaciuto Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale Ditemi che ne pensate riguardo tutte le serie e le clip per il montage Qui te ne si vede tutto Bella Ciao 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 Ciao